ciao a tutti oggi preparo con voi la pasta con crema di zucchine, pomodorini e pancetta affumicata, facciamola insieme! e allora mettiamo per prima cosa l'olio in padella, un pochettino di cipolla tagliata grossolanamente e dopo averla fatta dorare leggermente mettiamo le zucchine tagliate anche se grossolanamente, alziamo la fiamma, mettiamo un po di sale e a questo punto mettiamo un mestolo d'acqua bollente e facciamo cuocere per 10-12 minuti coprendo con il coperchio, mentre le zucchine cuociono mettiamo ad abbrustolire la pancetta affumicata a cubetti, ora ne approfitto già per salare l'acqua e mettere a cuocere i baccheri, le zucchine sono cotte, le metto nel bicchiere del mini peamer, ovviamente con la loro acqua, se si asciugate mettete un mezzo mestolo d'acqua, le frullo, vedete la cremina deve venire abbastanza liquida, la cremina ottenuta la tengo un attimo da parte, riaccendo la fiamma sotto la padella, olio extravergine di oliva, metto uno spicchio d'aglio e lo faccio dorare leggermente, perfetto, dorato l'aglio metto i pomodorini, metto anche qui un pizzico di sale e faccio cuocere fin quando sarà cotta la pasta, qualche secondo prima della fine della cottura della pasta togliamo lo spicchio d'aglio e trasferiamo la pasta in padella, facciamoci sempre un goccio d'acqua di cottura da parte, lo aggiungiamo ora, a fiamma bassa facciamo saltare un po' in maniera tale da far finire di cuocere la pasta a cui mancavano una trentina di secondi e poi facciamo anche insaporire bene bene, perfetto, a questo punto spegniamo la fiamma, mettiamo la crema di zucchine, mescoliamo bene e se è il caso, giusto per far asciugare un po', possiamo riaccendere la fiamma e far asciugare un po', spengo adesso definitivamente la fiamma, metto la pancetta croccante con un po' del suo olietto, ultima mescolata, parmigiano, e ovviamente come al solito assaggio direttamente da qui, mamma mia, caldo ma buono buono buono, fate questa ricetta e fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto, se il video vi è piaciuto mettete un like, condividetelo, se siete su youtube cliccate qui sotto per iscrivervi al canale o qui sopra su segui se siete su facebook, io per il momento vi saluto e prima di lasciarvi come al solito ne approfitto per augurarvi buon appetito! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!